Torna il servizio di Bus Navetta Terminal di Colle Maggio nel centro storico dell'Aquila. Sarà attivato così il servizio che collegherà il Terminal di Colle Maggio alla città, come rende noto, l'assessore alla mobilità del Comune dell'Aquila Carla Mannetti e l'amministratore unico della Società dei Trasporti Gianmarco Berardi. Le navette percorreranno il Viale di Colle Maggio, Viale Crispi, Corso Federico II, Corso Vittorio Emanuele, Via San Bernardino, Via Zara, Via Castello, Piazza Battaglione degli Alpini fino alla Fontana Luminosa, Viale Gran Sasso, Via Strinella e ritorneranno al Capolinea del Terminal di Colle Maggio. Il servizio sarà effettuato da lunedì al sabato dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19, con partenza ogni 20 minuti. Sarà possibile fare anche il biglietto a bordo. Perché il nuovo bus elettrico è dotato di una matrice di biglietti. È possibile ottenere anche il biglietto tramite sms al numero 48 96 897, digitando il testo AMA per acquistare il biglietto orario elettronico. C'è stata una precisa richiesta dei residenti e dei commercianti del centro storico, ha spiegato l'assessore Mannetti, e abbiamo ritenuto giusto andare incontro alle loro esigenze attivando il servizio di bus a navette elettrico. Si tratta di un esperimento e fra un mese faremo il punto della situazione per valutare qual è stata la risposta dei cittadini. Ringrazio anche l'amministratore di AMA e l'azienda intera per questo ulteriore sforzo, che si traduce in un servizio che potrebbe offrire una collaborazione alle necessità degli operatori economici del centro storico. Quello che è importante per offrire un servizio efficiente è prevedere degli orari cadenzati. Cioè il cittadino deve sapere che ogni mezz'ora c'è a disposizione questa navetta che può prendere in determinati posti. Lo stesso discorso vale anche per la linea 2, quindi non si lasceranno dei buchi, ma nelle fasce orarie in cui ci sarà questo servizio il cittadino saprà che ogni mezz'ora potrà prendere questo mezzo.